Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questo video è dedicato al corso di computer base. Dovendo fare una classifica delle cose importanti da saper fare al computer, a questo punto, dopo aver visto gli altri video e quindi dopo aver acquisito quelle nozioni che ti linko eventualmente sulla i qui in alto nel caso tu non le avessi viste, è ora di imparare a salvare. Una cosa fondamentale nell'uso del computer è saper registrare le cose che io produco e creo con il computer stesso. In questo caso si chiama salvare. Facciamo degli esempi. Mi prendo un foglio perché voglio scrivere qualcosa, per cui vado in Cortana e come mi hai visto fare altre volte scrivo Word perché voglio aprire WordPad. Mi è bastato scrivere solamente W-O perché il computer capisca che intendo usare il WordPad dato che l'ho fatto altre volte. Clicco sopra e apro il foglio di lavoro. Quindi questa è una prima cosa che desidero creare. Ma dato che abbiamo recentemente parlato di finestre, ora desidero aprire anche un altro programma in contemporanea sul mio computer. Quindi torno nuovamente su Cortana e scrivo Paint. Eccolo qua, il Paint, il programma che serve per disegnare. Ora vado a cliccarlo per aprirlo. Ed eccolo qua. Come conseguenza di ciò ottengo due finestre sovrapposte e sulla barra delle applicazioni vedo che ho aperto due programmi, il WordPad e il Paint. Con entrambi vogliamo produrre qualcosa e successivamente salvarlo. Comincio dal programma di scrittura. Quindi tocco in un punto qualsiasi la finestra che sta sotto, mi basta fare un clic per vederla venire avanti. E ora decido di scrivere qualche cosa. Innanzitutto vado a zoomare, a ingrandirmi un po' la pagina per poterla vedere meglio. Quindi mi metto con un po' di comfort. Faccio un clic nel foglio bianco per avere il cursore lampeggiante e ora posso scrivere qualcosa. Bene, quindi io ho lavorato un po' a mio computer e ho scritto delle cose. Ora desidero registrarle, desidero salvare queste cose. Ti faccio notare che sulla barra del titolo della mia finestra c'è scritto documento, WordPad. Quindi mi sta descrivendo quello che è la finestra che sto utilizzando. In particolar modo mi dice il nome dell'applicazione e come si chiama questa lettera che io ho iniziato a scrivere. Documento. Ora la registriamo, la salviamo. Questa cosa è uguale per tutto il computer. Quando io ho prodotto qualcosa lo vado a salvare nella scrittura, nei disegni, nei fotoritocchi, nei calcoli, in qualsiasi ambito nel computer, producendo qualcosa e salvandolo, si deve fare questa procedura. Ora vado nel comando File. Clicco su File e qui trovo Salva e Salva con nome. Sono due cose legate al salvataggio. Per ora utilizzeremo sempre Salva. In un secondo tempo impareremo a cosa serve e come si usa la funzione Salva con nome. Ti faccio notare che dato che il Salva si utilizza spessissimo, sempre, quando fai qualcosa a computer, finisci poi col salvarlo, sempre, e questo pulsante, questa dicitura, è resa raggiungibile più velocemente altrove. Ti faccio notare quindi che qui c'è scritto Salva e questo disegno, che a molti sembra un televisore, in realtà rappresenta un dischetto del passato sul quale si registravano le cose, è riportato anche qui. Quindi che io prema su Salva in questa posizione o che io prema su Salva in questa posizione, ecco che quando ci sono andato sopra con il mouse viene fuori la scritta Salva, è la stessa identica cosa. Quindi vado qui e premo Salva. A questo punto il computer mi chiede sempre due cose. Come vogliamo chiamare la cosa che sto salvando, che nome gli affidiamo? e lui mi propone un nome di sua iniziativa. In questo caso c'è scritto Documento. A me non importa qual è il nome che lui mi propone. Quasi mai questo nome è adeguato a quello che voglio salvare. Il nome deve essere possibilmente corto, ma deve ricordarmi di cosa si tratta. Io devo, semplicemente leggendo il nome, anche tra cinque mesi, rendermi conto che questo era un testo di prova che avevo fatto durante una lezione. Quindi scrivo, ora che è tutto in blu, questo nome ora è tutto in blu, non ho bisogno di cliccare in alcun posto, posso semplicemente scrivere. Ti faccio notare questo perché vedo sempre le persone che anziché cominciare a scrivere, cliccano. Se io vengo qui e faccio clic, ora il nome non è più blu e se io scrivo qualcosa, si accavalla, si unisce a ciò che c'è già scritto. Per cui devo, prima di scrivere, ricordarmi di cancellare, col tasto di cancellazione, il backspace che abbiamo visto nel video precedente o il canch che abbiamo visto sempre nel video precedente, devo togliere quanto c'è già scritto in precedenza per poter tornare a scrivere il mio nome, sempre. Ora dico a nulla, cioè rinuncio all'operazione del salvataggio perché voglio ricominciare per farti vedere invece cosa succede se io scrivo subito. Per cui torno a salvare. Eccomi qua, è uscita questa finestra dove mi chiede le due cose che dicevamo e una è il nome. Qui intanto in questa finestra si chiama salva con nome, per cui io ho premuto il salva ma il computer sta facendo il salva con nome. Non preoccupiamoci di questo adesso, vedremo successivamente. Per adesso noi salviamo. Quello che succede non importa. Salvare comporta che noi diamo il nome e quindi adesso che il mio nome proposto dal computer è tutto blu, la freccia del mouse può essere altrove e a me non interessa dove, scrivo direttamente il nome. Lo scrivo con le iniziale maiuscola e il resto in piccolo, ovvero in italiano corrente. Al computer non importa, ma importa a noi avere dei documenti salvati con un italiano corrente in bell'ordine, perché poi quando sono tanti è molto più facile reperirli. Quindi scrivo già con l'iniziale maiuscola e scrivo testo, prova, lezione, nove, se non sbaglio. Questo dovrebbe ricordarmi di cosa sto parlando. Bene, l'altra cosa che mi interessa, ma che approfondiremo in un secondo momento, è il dove viene salvata questa lettera. Scopriremo in un prossimo video che il computer è vastissimo, ha tantissimi posti nel quale posso riporre i documenti che vado a salvare. Quindi devo preoccuparmi di sapere dove lui li va a mettere questi documenti che salvo, altrimenti non li ritroverei più. Quasi sempre il computer cerca di andare nel posto giusto per conto suo. In questo momento mi dice che va in questo PC dentro documenti. E a me sta bene. In video successivi impareremo a cambiare questa sua decisione e a scegliere qualcosa che è più idoneo eventualmente per noi. Però da adesso e per sempre, quando salverai un documento devi ricordarti di dare il nome e di guardare sempre dove viene riposto il documento. Il nome sarà testo, prova, lezione 9 e va a finire in questo PC documenti. Salvo. Premo una volta su salva la finestra è scomparsa e io mi ritrovo qui in alto nella barra del titolo la scritta testo, prova, lezione 9 WordPad che c'era anche prima. quindi al posto del nome automatico documento che aveva proposto inizialmente il computer ora c'è il nome che ho scelto io per il mio documento. Questo mi garantisce che il documento è stato salvato. Posso chiudere il programma perché ho finito di scrivere. Chiudendo il programma trovo la finestra che c'era sotto. Bene. Tra poco andremo a vedere dove è finito il documento che abbiamo appena salvato. Adesso continuiamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa con un programma diverso questo Paint che serve per disegnare a computer. Ingrandisco la mia finestra quindi mi preparo un modo più comodo di lavorare questi comandi qui troppo spesso ce li dimentichiamo quindi prima di lavorare su una finestra gestiamola prepariamoci comodi in modo da poter lavorare poi più facilmente. Ora ingrandisco il foglio da disegno perché voglio averlo semplicemente più grande e vado a disegnare qualcosa. Bene. Ora voglio salvare questo disegno. La procedura è la stessa. C'è il comando file salva e salva con nome noi utilizziamo solo il salva fino a questo punto e c'è il dischetto qui in alto che serve per salvare. Ora questi due programmi WordPad e Paint sono entrambi programmi già presenti sul tuo computer fanno parte di Windows per cui sono della stessa famiglia dello stesso creatore e sono fatti con lo stesso standard grafico per cui la posizione dei comandi di salvataggio è identica però vedrai che anche in programmi diversi cioè aggiunti successivamente nel computer i comandi di salvataggio sono anch'essi uguali salva salva con nome il simbolo di un dischetto ed è disposto magari in altre posizioni. Ora faccio salva di nuovo la finestra di salvataggio che chiama salva con nome e devo dare un nome questa volta il mio documento viene chiamato immagine perché questa è una foto io gli do un nome diverso e lo chiamo luna controllo dove viene salvato verrebbe salvato in documenti da cancellare non mi va bene questo posto perché chiaramente magari vorrei conservarlo ma non voglio volutamente cambiare questa posizione perché ci dedicheremo a questa cosa in un video seguente per adesso mi abituo a prendere visione sempre del luogo dove viene salvato ciò che ho appena creato chiaramente questa è un'immagine avrei preferito che fosse in immagine ma non importa dico salva e qui in alto mi appare la scritta luna e paint che c'era già prima perché questa è l'applicazione paint posso andare a chiudere e ora sono tornato sul desktop del mio computer voglio andare a vedere dove è finito ciò che ho salvato vado in esplora file che presto capiremo bene a cosa serve e ora vado a cercare ciò che ho salvato entrambe le cose erano dentro questo pc e qui questo pc c'è già scritto quindi vuol dire che io sono già in questo pc documenti apro documenti ci sono un'infinità di cose che sono quelle che uso magari quotidianamente nel mio computer decido intanto di spostare un po' la finestra da lì sopra perché così non viene coperta dalla mia immagine e avevamo salvato il primo documento chiamandolo testo di prova saranno in ordine alfabetico in questo senso non sarà uno di questi documenti gialli per cui comincio a guardare alla fine dell'ultimo documento giallo di cui parleremo bene in seguito questa cosa e mi muovo in ordine alfabetico per linee orizzontali finché trovo ad un certo punto testo di prova vediamo se c'è eccolo qua testo prova lezione nove dentro documenti in da cancellare c'era la nostra luna faccio scorrere con la rotella per tornare tra i simboli gialli perché tra i simboli gialli dovrebbe esserci da cancellare anche qui in ordine alfabetico orizzontale ed ecco qui che dopo l'ultima c del corso base trovo la d da cancellare ci clicco sopra due volte vedo quelli che sono i documenti da cancellare e c'è anche la mia luna se premo due volte sulla luna mi viene aperto un programma di visualizzazione grafica che in questo caso eccolo qua mi si era aperto sul monitor che ho a fianco in questo caso non è il programma di fotoritocco ma è il programma di windows che mostra le immagini quindi questa luna adesso è visibile e basta se io volessi modificarla dovrei fare tutto un altro lavoro che faremo in un secondo tempo ma quello che mi interessava era che noi abbiamo creato qualcosa e lo abbiamo salvato all'interno del nostro computer tutto ciò che creo e salvo nel mio computer occupa uno spazio all'interno di esso nel prossimo video vedremo di quantificare questo spazio perché è molto importante quando guardo un video a questo punto faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video se ancora non l'ho fatto mi iscrivo subito al canale a questo punto Grazie a tutti.